Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video sui prodotti finiti inizio subito anche se non sono proprio tantissimi iniziamo dai prodotti per il corpo ho terminato questo bagno doccia della Lavera che mi era stato omaggiato a Cosmoproof e l'avevo messo un po' da parte in quanto essendo all'arancio avevo deciso di usarlo in estate essendo magari molto più fresco devo dire che ho fatto bene la profumazione è davvero buonissima molto molto agrumata e non ideale a chi non piace questo tipo di odore ed è davvero molto fresco quindi devo dire che mi è piaciuto molto in quanto a idratazione e cose varie nulla da riferire in quanto a un semplicissimo bagno doccia ho letto che il prezzo va intorno ai 4 euro e sinceramente per 150 ml mi sembra un pochino eccessivo però niente da dire effettivamente è buono poi ho terminato questo sapone per le mani della Cien che sarebbe la marca dell'Idol è un sapone cremoso con latte e miele ora voi direte vabbè è un semplicissimo sapone no perché io con tutti tutti i saponi da quelli diciamo più costosi alle marche più conosciute ho un problema ogni volta che mi lavo le mani anche quelli che dicono con idratazione profonda cose varie ogni volta che mi vado a lavare le mani mi si seccano terribilmente ogni sapone mi fa questo effetto ed è una cosa che mi dà fastidio questo finora è l'unico sapone che non me l'ha fatto anzi me l'idratava visibilmente quindi questa cosa mi ha molto molto sorpreso anche perché l'ho acquistata in offerta l'idl all'intorno agli 80 centesimi se andate a ricomprarlo l'altro giorno non era in offerta ma viene un euro e 20 mi sembra quindi comunque per 500 ml più che conveniente ve lo straconsiglio ed è tra l'altro ottimo anche per il lavaggio dei pennelli mi lasciava le sedole morbidissime come nessun sapone fa poi è terminato il deodorante che usiamo sempre ed è il Borotalco Fresh ho provato a passare al bio per quanto riguarda i deodoranti provando quello della Vivi Verde Cop ma niente non va bene perché dura veramente pochissime pochissime ore specialmente poi in estate che si suda tanto insomma si vuole un certo tipo di protezione e devo dire che questo del Borotalco è quello senza alcol effetto asciutto ha il vapo è l'unico che metto la mattina e la sera sono ancora asciutta perfetta profumata ed è una cosa davvero importantissima comunque trovare un deodorante che si è fatto apposta per noi poi per il corpo finito per i capelli ho terminato un altro ultradolce ormai direte ma la c'era a tutti si ed è questo qui ha latte di vaniglia e polpa di papaya per capelli lunghi punte fragili lunghi non sono sono lunghezza media districa ammorbidisce ripara fino alle punte allora vi devo dire che in quanto a consistenza è molto molto più denso rispetto agli altri ultradolce qui dice latte di vaniglia e polpa di papaya a me l'odore ricorda assolutamente la pasta frolla non so perché ma ha questo odore di tanto vanigliato e boh mi ricorda quando faccio i dolci la pasta frolla non so perché è senza parabeni ha estratti naturali ed è davvero un ottimo ottimo shampoo essendo comunque più denso ne serve meno prodotto rispetto al solito li lava benissimo li districa benissimo tant'è che la maggior parte delle volte non ho bisogno del balsamo con questo shampoo perché appunto mi scioglie benissime i nodi e me li rende morbidissimi quindi assolutamente questo ultradolce ve lo stra consiglio poi in offerta sapete che gli ultradolci si trovano su 1,50 euro 1,70 euro quindi prezzi abbastanza abbordabili per 250 ml di prodotto quindi fatemi sapere se l'avete provato altro prodotto per capelli finito è questa maschera maschera per capelli della Ommia questa è all'olio di semidilino ci sono diversi divi c'era olio di macadamia se non sbaglio olio di argan non mi ricordo questa contiene 0% di coloranti siliconi peg olio minerali e parabeni per capelli più forti come vedete è bella proprio che è finita mi è piaciuta tantissimo ero reduce dalla maschera per capelli dei provenzali e vi lascio sotto la review che feci nel mio blog effettivamente non era una una maschera male insomma era veramente buona però l'odore e a lungo andare mi dava veramente fastidio e oltre di tutto l'avevo pagata intorno ai 7 euro che non è diciamo proprio economica da questa buona poi invece presi questa che alla fine mi è durata un paio di mesi buoni è davvero ottima ha una consistenza densa al punto giusto distriga perfettamente i capelli io a volte quando li avevo quando li lavavo che erano ricci quindi tendevano a essere un po' più secchi la massaggiavo anche sulla cute comunque non mi andava a ingrassare i capelli pur avendoli comunque leggermente un po' grassi non me li sporcava perché alcune maschere mi danno l'effetto che poi mi lasciano i capelli unti e sporchi invece questa assolutamente no e tra l'altro è molto più economica perché viene intorno 4 euro 4 euro e 50 quindi assolutamente ve la consiglio anzi fatemi sapere se l'avete provata e se avete provato le altre quella semi tipo olio di macadamia perché sarei curiosa di provare le altre anche se sinceramente con questa mi sono trovata stra stra bene poi per quanto riguarda lo struccaggio ho terminato questi campioncini di ringana vi lascio qui il link dove faccio la review di questa collaborazione in pratica dei prodotti che mi hanno inviato per ora è rimasto ancora un pochino di siero ma questi qui è la crema viso il latte detergente il tonico sono finiti è inutile che mi dilungo sono dei prodotti fantastici vi lascio i link così magari se vi interessa vedete la review altro prodotto ve lo struccaggio finito o quasi ne ho lasciato pochissimo per farvelo vedere è questo che voi direte cos'è ho buttato il barattolo comunque era l'olio di cocco di akamuti allora qui non so neanche io cosa dire effettivamente strucca benissimo forse ho fatto io un po' la cavolata di comprarlo nei mesi caldi l'ho dovuto levare dal suo barattolino perché l'ho poggiato sul mio billetto del bagno con il caldo non era più un burro ma era diventato un vero e proprio olio come vedete proprio liquidissimo e ogni volta che andavo ad aprire per prendere un po' di prodotto con il dischetto usciva da tutte le parti l'olio e ho fatto dei casei allucinanti su questo mobile quindi ho pensato che la soluzione migliore fosse comprare un dispenser di questi dai cinesi e travasarlo qua dentro devo dire che ci sono rimasta male che appena travasato arrivava qui quindi il prodotto era davvero davvero poco è vero anche che ho preso diciamo il barattolino più piccolo per provarlo però l'ho pagato sempre intorno 7-8 euro e non è proprio poco ora ancora c'è pochino ma perché non lo sto utilizzando tutti i giorni perché lo alterno con uno struccante l'oreal che ho e con questi da collaborazione quindi insomma sta duricchiando un po' ma se avessi usato solo questo tutti i giorni tempo una settimana sarebbe praticamente finito in quanto a struccaggio appunto strucca benissimo strucca bene waterproof in mascara che è l'unica cosa che ogni volta ho un po' difficoltà a struccare però non mi fa impazzire la sensazione di unto sul viso è vero che poi con un detergente va via però non lo so non mi ha convinto al 100% questo prodotto magari lo riproverò questo inverno dove la consistenza sarà assolutamente diversa e anche il fatto che non sia così liquido magari darà una resa diversa non lo so fatemi sapere voi come vi ci trovate poi unico prodotto per il trucco terminato è questo correttore della Elf che ho cercato di scavare il più profondo ed è il full cover è andata via pure la scritta cover everything cover everything con sile ve ne ho parlato anche nel video dei correttori vi lascio il link se volete è comunque un correttore ottimo che sul sito non riesco più a trovare non so se è andato fuori produzione o altro è davvero buonissimo non fosse per lì cioè non fosse che la mia zona del contorno occhi è molto delicata e quindi con correttori diciamo aggressivi mi si vanno a formare sempre bollicine grani di miglio quindi sto cercando di usare prodotti almeno con un buon inzio assolutamente agobio per il contorno occhi passiamo poi a un po' di campioncini di solito ne finisco molti molti di più ma con l'estate ho proprio zero voglia di mettermi a provare creme viso creme corpo specialmente le creme corpo però qualcosina ho provato allora una non è un campioncino è questa maschera di H&M che presi ai saldi invernali e infatti l'ho pagata un euro anziché un euro e 95 ed è face mask mineral mask mineral mask cioè mineral del mal morto è una maschera allora il colore era questo verdino che si intravede molto molto corposa e davvero una buona maschera e mi ha ricordato molto la consistenza di quella di quella che sto usando della Queen Helen vi lascio magari la foto qui perché sicuramente la foto la riconoscete ed è davvero una buona maschera questa per un euro assolutamente anzi era anche molto molto prodotta all'interno però ho cercato di finirlo tutto in una sola volta perché con il caldo oppure che magari andava un po' a male quindi assolutamente specialmente adesso con i saldi se la trovate a un euro ve la consiglio altra maschera provata è questa qui della Geomar con alga corallina e biofiore di iris erano due una l'ho utilizzata io e una mia madre questa è una maschera esfoliante e illuminante a differenza di quella di H&M questa non mi è piaciuta per nulla perché per me il concetto di maschera è quello di come posso dirvi di qualcosa di corposo che va sul viso questa invece era molto molto liquidina aveva questi micro microgranuli all'interno che facevano uno scrub molto molto leggero cioè adatto perché ha una pelle sensibile però niente di così visibile e poi a me questa consistenza così liquidina insomma non mi fa impazzire e questa l'ho pagata c'è anche scritto 1,50 euro e la presi d'acqua e sapone però non penso di ricomprarla poi ho provato questo campioncino che mi era stato inviato l'ho richiesto tramite campioni omaggio.it ed è il cel plus ed è una crema anticellulite senza parabeni non rappresenta una fonte di odio io ho fatto una cosa che di solito non faccio mai ho buttato quasi interamente il campioncino perché applicato su una gamba appena applicato sulla coscia insomma ho cominciato a bruciare da morire ma troppo 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 e quindi ho pensato mi stesse dando una sorta di allergia mi sono risciacquata e ho buttato il campioncino quindi su questo non vi posso dire nulla anzi oltre che che la mia pelle non l'ha assolutamente sopportato quindi per me è bocciato poi ho provato questa crema dell'equilibra ed è l'aloe crema corpo fluida è una crema quasi in odore l'odore è veramente leggerissimo molto molto idratante l'ho trovata stra comoda usandola come dopo sole perché appunto idratava molto essendo la pelle comunque molto secca ed è una buona crema corpo al 20% di aloe vera senza petrolati parabeni siliconi senza alcol senza allergeni quindi è una buona buona crema questa ho provato poi questo burro corpo della Organic al cranberry allora la profumazione era divina e dico la verità io non amo il burro corpo perché non mi piace la consistenza che poi rimane addosso perché tende comunque a lasciarmi la pelle un po' unticcia invece questo l'ho adorato era davvero buonissima questa consistenza proprio un po' burrosa ma una volta spalmato andava comunque ad adratare in profondità la pelle ma senza lasciare la pelle unta o comunque quella sensazione un po' strana assolutamente si è assorbita totalmente in fretta ed è una cosa stra buona è vero anche che ho letto il prezzo della full size viene 25 euro quindi non proprio poco insomma però assolutamente è un ottimo burro corpo poi ho provato questa crema corpo di bottega verde all'iris bianco ha una profumazione fantastica davvero davvero buonissima e buona quanta da rotazione ha una normalissima crema corpo niente di particolare ma il profumo era davvero davvero straordinario altra crema corpo provata è questa qui dell'erbolario ombra di tiglio allora il profumo era delicatissimo era proprio molto 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 leggero ma la cosa che non mi è piaciuta assolutamente è la consistenza della crema perché è la classica crema che lascia la scia bianca ed è una cosa che a me innervosisce da morire perché già sono pigra e già se metto una crema corpo vuol dire che se in più devo stare 20 minuti a massaggiarla perché mi lascia la scia mi infastidisce infatti per aiutarmi ad assorbirla più in fretta ho messo sulla mano un goccio di olio di mandorle che quindi ha aiutato comunque a farla assorbire un pochino più in fretta peccato perché comunque è un'ottima crema in quanto anche l'idratazione non sentirebbe più idratante di quella di bottega verde per capirci però questo fatto della scia a me infastidisce e niente ragazzi ho finito come vi ho detto non erano proprio tantissimi prodotti fatemi sapere se avete provato qualcuna di queste cosine e ci vediamo al prossimo video ciao ciao